buonasera e ben ritrovati iniziamo una nuova puntata di angoli io come sempre non posso fare a meno di ricordarvi il nostro indirizzo mail angolichiocceleespansionetv.it mi raccomando scriveteci ci sono varie ragioni per cui ci fa piacere ricevere i vostri messaggi anzitutto sapere che ci seguite ma poi ovviamente aspettiamo le vostre mail anche per ricevere dei suggerimenti sugli argomenti che vorreste che approfondissimo qua assieme in studio ovviamente potete segnalarci eventi iniziative e proporre ad esempio alcune vostre opere manufatte nel caso del primo ospite di questa puntata noi siamo in compagnia di Gianluigi Marinoni medico e scrittore ci ha scritto per proporci il suo secondo libro buonasera Gianluigi e ben ritrovato noi ci siamo già conosciuti l'anno scorso devo dire che mi aveva sempre già affascinato anche nella prima occasione il fatto che lei medico di base qua nel comasco abbia questo hobby per la scrittura e abbia così inventato un personaggio anche lui medico che si destreggia in circostanze anomale questo è il suo secondo libro si intitola la principessa del nord e come il primo che era la congrega delle zanzas lei lo firma con il suo pseudonimo nino rima allora intanto raccontiamo un po meglio di che cosa parla questa principessa del nord sì la storia è ovviamente un noir però molto diverso dal precedente in questa in questo è il sequel comunque della congrega delle zanzas perché i protagonisti sono gli stessi borgo e suoi amici borgo il medico detective che tre anni prima aveva sgominato le zanzas e la storia si svolge tre anni dopo sempre nella cittadina di briserio dove borgo vive fa il medico e questa volta borgo sarà alle prese con le seguaci superstiti del della grande madre che era il personaggio cattivo per eccellenza del precedente romanzo e della sua setta di mania che in particolare si scontrerà con sandra questo personaggio molto particolare che la strega o presunta tale quindi già da questa premessa possiamo capire che il tema centrale di questa storia noir e la stregoneria la magia e la stregoneria è una cosa che mi ha affascinato da sempre particolare anche nell'altro appunto la congrega la setta ecco com'è che che ha questa passione per così l'occulto io sono un po romantico l'occulto si richiama molto romanticismo perché comunque la magia la stregoneria appartengono alla dimensione del sogno hanno i contorni rarefatti del sogno anche quelli della fiaba il titolo se vogliamo richiama una fiaba la principessa del nord ed è un diciamo la principessa del nord è un termine con cui sandra si identifica in uno dei suoi deliri narcisistici la mia passione per la magia quindi si esprime in questo in questo romanzo dove abbiamo a a che fare con questa sandra che sicuramente una borderline una personalità egocentrica narcisista manipolatrice grande seduttrice perché seduce in modo tremendo al tempo stesso fa la barista in un bar che appartiene alla alla laida chiamata laida nel paese insomma che poi la sua la sua serva la serva della strega se vogliamo quindi si capovolgono i ruoli nell'ambito magico e è una brava scultrice scolpisce statue di cera così simili all'originale da sembrare vive ma le scolpisce per i suoi scopi malefici e quindi ci troveremo questa situazione è un assassina perché ha già ucciso in passato tenterà di uccidere ancora e chi legge saprà se ci riuscirà o meno e quindi ci sono tutti questi aspetti ma alla fine siccome tutto centrato sulla figura di sandra il lettore si domanderà se questa sandra sia veramente una strega o piuttosto una mitomane che gioca a fare la strega per rispondere a questa domanda bisognerà cercare gli indizi contraddittori che dei quali ho disseminato il romanzo ho seminato un sacco di indizi però mi piace sì uno può poi avere la sua chiave di lettura può dire sì no per me è una mitomane per me è una strega vabbè non ha molta importanza quello però tra i tanti indizi io ne ho messo uno quasi in modo inconscio che è un'apparizione fugace che dura poche nello spazio di poche righe se il lettore molto attento la individua potrà essere orientato nella sua decisione finale circa il ruolo di sandra ma poi alla fine lei dà una soluzione a questa enigma la soluzione definitiva no però cioè diciamo la storia poi avrà tutta la sua evoluzione e finisce in un certo modo che va bene possiamo dire ovviamente però è uno rimarrà un po in certo perché alleggia l'incertezza fino alla fine questo romanzo parlavo dell'indizio che ho messo io perché mi viene in mente non so se lei ricorda profondo rosso vecchio film di dario agento c'era quella scena allo specchio no in cui il protagonista ritorna nel corridoio dove è avvenuto un delitto si vede riflesso nello specchio vede i volti dipinti ma insieme a questi volti compare per una frazione secondo il volto dell'assassina e l'indizio che ho che ho messo è qualcosa di simile insomma va beh questo per quanto riguarda sandra poi c'è però un altro grande protagonista negativo della storia ed è la cittadina il paese di briserio un paese dove la cattiveria si annida in modo endemico come pensa borgo perché non è non ha molto in simpatia la città in cui vive pensa che il male sia annidato lì profondamente tanto è vero che le maldicenze all'inizio del romanzo porteranno una tragedia familiare quindi il romanzo si aprirà con una tragedia familiare e c'è da domandarsi il lettore si domanderà se questa cattiveria è solo così una cattiveria generica le solite dicerie che ci sono in tutti i paesi o se sotto si annida qualcosa di più profondo di oscuro e di tenebroso e anche di demoniaco se vogliamo e poi la seconda cosa questo paese tre anni dopo la vicenda delle zanzas ha rimosso tutto ha cancellato tutto con un colpo di spugno come se non fosse mai accaduto niente addirittura ci sarà chi tenta di riabilitare la memoria del conte maledetto che è uno dei protagonisti la mummia del conte era aveva un ruolo importante nel primo romanzo qualcuno tenterà di riabilitarlo di trasformare in un grande scienziato immerso in una diatriba storica del primo ottocento che era quella tra fissisti e trasformisti cioè chi pensava che le specie animali fossero immutabili e chi pensava invece che potessero evolversi trasformarsi trasformismo di la marca tra l'altro era il preludio del darwinismo quindi qui c'è anche questa questa diatriba vedremo come si risolverà insomma la faccina e certo invece per quel che riguarda appunto la stregoneria è molto curioso il fatto che interesse a lei ma anche perché appunto lei di professione fa proprio il medico quindi com'è che si conciliano se vuole un po anche un altro lato della medaglia della scienza ma non perché necessariamente sia contrapposto ma perché anzi in passato ci sono stati forse anche dei punti di contatto molto spesso tante cure erbe medicinali passavano proprio dalle cosiddette streghe esatto alcune molte donne molte streghe sono finite sul rogo solo perché praticavano una magia benefica la medicina ai fondo perché le erbe erano medicanti medicati erano farmaci insomma sotto certi aspetti medicamenti no e però c'era tanta ignoranza ma la paura delle streghe che c'era allora non era tanto la paura della strega magari che era una poveraccia quanto dei sabba perché nei sabba si riunivano molte streghe nell'immaginario collettivo quindi era qualcosa di sedizioso qualcosa di rivoluzionario ecco perché venivano venivano represse queste streghe no è perché la stregoneria mi ha appassionato come fenomeno storico e poi perché io come medico diciamo una cosa agli antipodi la vedo bene perché comunque nella nostra anche nella scienza ci sono delle zone d'ombra e come dice nel mio romanzo la sensitiva irlandese che è una delle protagoniste nelle zone d'ombra della della vita si può annidare la magia ho capito so che ci tiene peraltro in particolar modo a ringraziare l'autore della copertina del libro che è un suo amico eccola qua come è stata scelta alla fine i libri si scelgono ovviamente per i contenuti ma molto spesso l'occhio in libreria cade proprio dalla sola copertina no e quindi immagino che per un autore la scelta di un'immagine rispetto un'altra sia decisiva qui è venuto il contrario perché il l'artista giuseppe alfano che è un bravo pittore ha realizzato un quadro leggendo parti del mio libro mi ha detto ma mandami un po di fammi fammi capire che è questa sandra questo questo personaggio ha letto qualche pagina e ha creato una strega da sogno direi perché la copertina una bellissima ragazza con questo sguardo che io siccome una grande seduttrice lo sguardo io immagino nel libro che scagli aghi lucenti una cosa del genere infatti riesce a nel suo intento abbastanza spesso certo dando un'occhiata alla prefazione ho capito che prende le distanze dal eventuali come dire rassomiglianze no perché ovviamente protagonista del libro è sempre medico lei è medico però ci tiene a precisare che il paese l'ambientazione è tutto immaginario ma non c'è magari non dico un fatto che è stato riportato quindi qualcosa di autobiografico no però un piccolo piccoli aneddoti della sua quotidianità che in alcune dinamiche del libro si possano ritrovare ma diciamo che si può succedere che io descrivo situazioni anche in qualche pagina borgo alle prese con i suoi pazienti e ci sono delle risonanze generiche di quello che è il mio lavoro non ci sono riferimenti a fatti concreti perché purtroppo dopo la pubblicazione del mio primo libro è stato molto letto nei paesi dove esercito la professione qualcuno ha visto chissà quali riferimenti al reale per l'amor di dio in oltretutto la storia precedente era molto cruenta c'erano delle decapitazioni si facevano queste zanzas mi sono meravigliato che si potessero trovare dei corrispettivi tra quello che scrivevo e i personaggi reali no non si diciamo esistono delle reminiscenze generiche relative alla mia attività quotidiana ovvio io nel mio libro le posso ricordare sicuramente ma non personaggi in carne e ossa ci tengo a dirlo ha ragione poi soprattutto nel suo ruolo però devo dire che da frequentatore di qualunque sala d'aspetto semplicemente fermandosi due ore ci sarebbe del materiale per gran romanzi non solo nel sale d'aspetto anche proprio nel colloquio medico paziente eccolo a questo ci sarebbe da scrivere libri su libri però io ho scelto fortunatamente ho scelto un genere molto diverso e beh sì d'accordo ricordo il titolo la principessa del nord firmato nino rima l'autore lo pseudonimo insomma è di gianluigi marinoni grazie mille gianluigi per essere stato con noi grazie a lei per avermi accolto ancora una volta qualche istante di pubblicità ma torniamo tra pochissimo con la seconda parte di angoli restate con noi